Musica Lea in Calabria, l'insufficienza è un dato ormai cristallizzato. La Corte dei Conti ribadisce il vero vulnus del settore sanitario, inadempiente in tutte e tre le aree dei livelli essenziali di assistenza per il 2021, con un lieve miglioramento solo nell'area ospedaliera. L'ultimo abbraccio della Calabria a Profiti. Nella sede della Regione, la Camera Ardente per il super manager di Azienda Zero, scomparso giovedì a soli 62 anni, celebrati oggi i funerali. Maxi, piantagione di marijuana sequestrata nel Cosentino. Quasi 2.500 piante trovate in una zona isolata, nascoste tra la fitta vegetazione nel comune di San Donato di Nea. Beccato dai carabinieri, il guardiano si tratta di una 33enne di origine albanese che è stato bloccato ed identificato. Molti giovani riescono ad abbandonare i contesti criminali. Il procuratore del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, premiato a Palmi con il Prometheus 2023. Tra i premiati, anche il direttore del Corriere della Calabria, Paola Militano. Salve a tutti, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro Corriere TV in apertura del nostro giornale La Sanità, con un dato che è ormai cristallizzato. I livelli essenziali di assistenza in Calabria restano purtroppo sotto la sufficienza in tutte le aree prese in esame. Lo ribadisce la Corte dei Conti che boccia quindi ancora una volta la sanità calabrese. Il dato è ormai cristallizzato. La Calabria risulta inadempiente nelle tre griglie LEA per il 2021. Anche la Corte dei Conti sottolinea e ribadisce il vulnus della sanità calabrese, quello della insufficiente qualità dell'assistenza. Un record negativo che la Calabria condivide soltanto con la Valle d'Aosta, almeno in termini assoluti. Nell'ultima relazione sulla gestione finanziaria delle regioni e delle province autonome, i giudici contabili pubblicano i dati del monitoraggio del Ministero della Salute, dati che indicano che nel 2021 la regione consegue un punteggio complessivamente basso in tutte e tre le aree di assistenza. Tutte sotto la soglia 60, quella della sufficienza, in una scala da 0 a 100. Per l'area prevenzione distrettuale, la sanità calabrese mostra un peggioramento rispetto al 2019, mentre per l'area ospedaliera, sebbene insufficiente, rileva un lieve miglioramento rispetto alle annualità precedenti. La Corte dei Conti delinea il quadro generale a livello nazionale, evidenziando le difficoltà della Calabria. Sono sette le regioni, si legge nella relazione, che hanno riportato un punteggio insufficiente in almeno una delle tre aree assistenziali del Servizio Sanitario Regionale, di cui due, Valle d'Aosta e Calabria, in tutte e tre le aree, una la Sardegna in due e quattro solo in una. Si tratta della provincia autonoma di Bolzano, Molise, Campania e Sicilia. E a proposito di sanità, arriva il sigillo ufficiale del Ministero dell'Università. Adesso la Facoltà di Medicina all'Università della Calabria è realtà, approvata infatti la nascita del nuovo corso di laurea. La Facoltà di Medicina a Cosenza adesso in realtà è stata ufficialmente approvata la nascita del nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia TD, Tecnologie Digitali, dell'Università della Calabria. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha messo il sigillo finale alla lunga procedura necessaria per l'accreditamento del corso di studio a ciclo unico avvenuto a seguito della verifica del possesso di requisiti didattici e assistenziali, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria definiti dalla normativa di riferimento. L'Università della Calabria riporta, una nota dell'Ateneo, ha bruciato le tappe per ottenere in pochissimo tempo tutte le autorizzazioni necessarie a far partire il corso di laurea nell'anno accademico 2023-2024. Si tratta di un percorso universitario articolato in sei anni, al termine dei quali si consegue la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, a Tecnologie Digitali. Il corso permette inoltre di conseguire anche la laurea triennale in Ingegneria Informatica Curriculum Bioinformatico, con ulteriori cinque esami da sostenere nell'arco dei sei anni del corso di studi. Le lezioni si terranno presso il polifunzionale dell'Unical, mentre le attività di tirocinio professionalizzante si svolgeranno principalmente presso l'azienda ospedaliera di Cosenza, avvalendosi anche delle strutture sanitarie dell'ASP della provincia e nell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. I posti a disposizione sono 178, dei quali 103 per il corso esclusivamente Unical e 75 per il corso interateneo, già attivo da due anni con l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Non solo la sanità nel nostro Tg, il governo punta sulla zona economica speciale unica ed è pronto a stanziare fondi per oltre un miliardo di euro, di cui circa 300 milioni ricollocati dai fondi PNRR destinati alla riqualificazione dei beni confiscati alle mafie. 300 milioni di euro dalla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, altri 725 milioni dal potenziamento di servizi e infrastrutture di comunità delle aree interne. Poco più di un miliardo di euro di fondi delle PNRR, dunque destinati alla creazione della zona economica speciale unica nel mezzogiorno. Le proposte del governo per la revisione del piano nazionale di ripresa e resilienza e il capitolo Repower EU includono anche questa strategia che non sta mancando di sollevare polemiche e dubbi. L'idea del governo inserita nella relazione che il ministro Raffaele Fitto ha presentato al Parlamento è quella di portare comunque a compimento tutti i progetti ammessi a finanziamento ricorrendo a risorse nazionali per liberare e destinare le risorse corrispondenti del PNRR alla creazione della ZES unica, un progetto basato sulla previsione di un investimento che rilanci le sorti economiche del Sud Italia e della Calabria. La riforma dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2023 e mira a superare la perimetrazione attuale delle otto ZES, tra cui quella della Calabria. Entro il 30 giugno 2024 poi dovrà essere definito un sistema di governance basato su una struttura unica nazionale, mantenendo comunque il ruolo delle amministrazioni locali nella valorizzazione e promozione delle nuove opportunità di investimento. I settori interessati saranno quello della manifattura, ma anche quello agricolo e agroindustriale, filiere strategiche per le transizioni green e digitale. E poi il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Un sistema organico di interventi in grado di massimizzare l'impatto competitivo e la capacità del mezzogiorno di attrarre nuovi investimenti. Sono stati celebrati questa mattina i funerali di Giuseppe Profiti, commissario straordinario di Azienda Zero, morto giovedì scorso in Puglia per un ammalore all'età di soli 62 anni. In un'atmosfera di profonda commozione è stata aperta la cittadella, la sede della Regione Calabria-Cadanzaro, la Camera Ardente del manager della sanità Giuseppe Profiti, commissario straordinario di Azienda Zero, scomparso in Puglia giovedì sera per un ammalore all'età di 62 anni. Questa mattina invece si sono celebrati i funerali nella città capoluogo. La Camera Ardente è stata allestita nella sala San Francesco di Paola del Palazzo Regionale con la presenza del presidente della Regione Roberto Occhiuto. Alla Camera Ardente a render omaggio al manager inoltre sono arrivati i vari rappresentanti delle istituzioni, del mondo della sanità e delle organizzazioni di categoria. Un lento ma costante pellegrinaggio di esponenti politici e non solo si è snotato lungo il viale di accesso alla cittadella per l'ultimo saluto a Profiti. Molta compostezza e molta sobrietà, nessuna dichiarazione ufficiale, ma solo la presenza, come attestato di affetto e di stima, per Profiti per il lavoro svolto al fianco del presidente Occhiuto, come commissario di Azienda Zero. Punti di svolta all'avvio dell'accertamento del debito, storicamente fantasma, della sanità calabrese, e il reclutamento di oltre 2.000 operatori sanitari e la riorganizzazione della rete ospedaliere e territoriali. Tutti atti che Profiti ha seguito e ribustito con la sua competenza, con le sue capacità di relazione ai massimi livelli. E quindi la cronaca con la maxi piantagione di marijuana scoperta dai carabinieri a San Donato di Ninea, nel Cosentino, dove i carabinieri hanno individuato quasi 2.500 piante e beccato il guardiano della piantagione. L'ennesima maxi piantagione scoperta è distrutta nel Cosentino. I controlli delle forze dell'ordine proseguono senza sosta anche nel periodo estivo e sono numerosi ritrovamenti di piantagioni di marijuana pronta ad essere raccolta, lavorata e messa sul mercato. Nelle scorse ore, nel comune di San Donato di Ninea, i carabinieri della stazione, con il prezioso supporto dei militari dello squadrone e li portato cacciatori Calabria, hanno scoperto una maxi piantagione di marijuana occultata tra la vegetazione naturale composta da alberi alti e folti. Sono 2.492 le piante rinvenute in perfetto stato vegetativo e di altezza compresa tra i 60 e i 180 centimetri. Dopo aver trovato la piantagione, i cacciatori di Calabria si sono appostati per giorni confondendosi nella fitta vegetazione, fin quando hanno notato un soggetto che si è avvicinato all'impianto di irrigazione per poi controllare la crescita delle piante. È stato in quel momento che il 33enne di origine albanese è stato bloccato e arrestato in flagranza per il reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Lo stesso è stato tradotto nella casa circondariale di Castrovillari. Dai verbali dell'inchiesta della DDA di Reggio Calabria sui fiancheggiatori della latitanza del boss Crea emergono i racconti del pentito Spinell. Il commando dei calabresi può rintracciare collaboratori e testimoni di giustizia. Cercavano esplosivo, armi e bazooka per uccidere Rodolfo Ferraro, ex affiliato del clan Crea. Un regalo di Natale per il boss in carcere. Le chat criptate a disposizione di quattro procure antimafia aprono un fronte inquietante nell'inchiesta sulla latitanza del boss Domenico Crea, soprattutto nella parte delle indagini che si concentra sulle attività del commando che si sarebbe macchiato dell'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo. Le ombre aumentano quando Philip Spinell, accusato di aver collaborato all'attentativo di omicidio di Ferraro nel Bellunese, decide di raccontare agli inquirenti quello che sa. E il neocolaboratore di giustizia, sottolineare che il gruppo sarebbe capace di localizzare collaboratori e testimoni di giustizia e svela la programmazione di ulteriori assassini dei quali lui e Gian Enrico Formosa, altro complice poi divenuto collaboratore, sarebbero stati incaricati. Spinell, in un interrogatorio del 2020, spiega di avere paura. Questo mio terrore, spiega i magistrati, un anno più tardi era dovuto al fatto che sapevo benissimo che i soggetti calabresi erano in grado di scoprire dove vivono i collaboratori di giustizia. Lo stesso Formosa, le cui dichiarazioni aiuteranno la Didià di Catanzaro a ricostruire il contesto del tentato omicidio di Pasquale Insitari, avrebbe detto all'allora complice che dopo quello di Canale d'Agordo avremmo dovuto fare anche altri attentati, senza però entrare nel dettaglio. Organizzati e capaci di reperire armi pesanti dunque, determinati alla vendetta in nome dell'andrangheta, e capaci, secondo due collaboratori di giustizia, di scovare i pentiti in località protette. La storia del commando, che i magistrati ritengono vicino al Cancrea, forse non è ancora stata scritta del tutto. Ed ora ce ne andiamo invece a Palmi, dove il procuratore del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, è stato premiato con il Prometheus 2023. Si cerca di intercettare tutta quella fascia di ragazzi che vivono in maniera disagiata per cercare di dare una mano, di aiutarli, ed evitare che poi debbano diventare invece frequentatori dei tribunali da maggiorenni. Roberto Di Palma, procuratore del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, premiato con il Prometheus 2023, è intervenuto all'evento Festival dei Tramonti, organizzato dai soci Prometheus e patrocinato dal Comune di Palmi. Tanti gli ospiti nella Due Giorni, da Sandra Misale, premiata per la sezione Medicina d'Eccellenza, alla direttrice del Corriere della Calabria, Paola Militano, per la sezione Informazione e Cultura, e la coordinatrice della Caritas Diocesana di Reggio Calabria, Bruna Mangiola. Molti giovani riescono ad abbandonare i contesti criminali, questo è il messaggio lanciato da Di Palma. Quelli che passano nei nostri uffici, di tanti noi abbiamo dei dati significativi, tutti i ragazzi, allora ragazzi che vengono messi alla prova, una percentuale minima, irrisoria, sono ragazzi che ricadono nella commissione di reati. Il Festival dei Tramonti è un evento che parla alla gente attraverso storia ed impegno sociale, dice ai nostri microfoni il presidente dell'Associazione Prometheus, Severio Petitto. Non è facile divulgare cultura in un momento di festa, festaiolo più che festa, però non ci siamo riusciti. E ancora con arte e cultura, fino al 18 agosto a Monte Rosso Calabro la mostra artistica Il Borgo in Mostra allestita presso il Palazzo Municipale del Piccolo Centro delle Preserre Vibonesi. Un'estate all'insegna dell'arte, quella proposta dalla Proloco di Monte Rosso Calabro con la mostra artistica Il Borgo in Mostra allestita presso il Palazzo Municipale del Piccolo Centro delle Preserre Vibonesi, noto per la presenza del Polo Museale e per i riconoscimenti internazionali ricevuti in ambito turistico e culturale. L'evento si svolge nell'ambito dei Cenacoli Monte Rossini 2023, il fortunato format culturale voluto dall'Associazione per promuovere le risorse turistico-culturali del territorio che gode del patrocinio e della collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Monte Rosso Calabro e dell'Epli, ente proloco italiane. L'organizzazione tecnica e artistica è stata affidata allo scultore Antonio Salvatore Maio che è riuscito a coinvolgere i più importanti artisti calabresi. Mi hanno invitato a questa mostra fantastica dove ho visto tantissimi autori che esprimono i loro sentimenti, le loro paure, le loro, come posso dire, emozioni con i colori della vita, mettendo su tela le proprie espressioni. Portiamo dei lavori tutti gli artisti da far vedere perché la cultura è il fiore all'occhiello dell'umanità, la pittura, la poesia, i romanzi, le scritture e così via. Sono dell'idea che l'arte è poesia, è qualcosa di bello, è musica e sono dell'idea anche che in ogni pittore nasce una poesia e tutto questo ci aiuta ad andare avanti in questo mondo che purtroppo ormai tante cose belle non si sentono, non si vedono, mentre l'arte ci colore la vita. Ed infine lo sport con una gara, la sei ore per le vie di Curinga che per il borgo catanzarese rappresenta molto di più di una semplice corsa. Da chi ha avuto la fortuna di correrla è stata definita fra le più belle d'Italia, sicuramente è la gara più premiata, tutte le donne, i primi dieci assoluti e i primi cinque di categoria, la sei ore per le vie di Curinga, gara individuale su strada, valevole per il Grand Prix juta animato e colorato le vie del borgo catanzarese. È una gara a livello nazionale, poi è la ultramaratona delle sei ore più longeva d'Italia, quindi ne siamo veramente orgogliosi. Innanzitutto poi è previsto in questo percorso delle sei ore una tappa che è di dieci chilometri e un'altra tappa di ventuno chilometri. Poi ci sono veramente tanti ragazzini in fermento che ci rallegrano e sono le promesse, sono le promesse del territorio. Una gara che non è solo sport ma che per il territorio di Curinga rappresenta molto altro. No, assolutamente, non è solo una corsa, parliamo di volontari, sono tantissimi ragazzi che ci danno una mano, tutto il territorio e questi ragazzi sono impegnati per sette giorni perché per sette giorni c'è sport qui a Curinga sette giorni per valorizzare l'intero territorio quindi parliamo di Curinga, parliamo della frazione di Acconia bellezze naturalistiche ne abbiamo veramente tante quindi si parla non solo di sport ma di cultura e di valorizzazione del territorio nella sua totalità. I ragazzi sono il nostro punto forte, sono veramente la forza del territorio. Bene, è tutto per questa edizione io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni della TG dell'altro Corriere TV buon proseguimento. buon assegna a tutti the Grazie a tutti.